Mamma è fuori mercato e questo è il titolo del film, iscritto e diretto dal regista anorese PJ Gambiuli, la cui premiere Sarda è in programma lunedì 13 maggio alle 20.30 nel Teatro Elisio di Nuoro. Una proiezione che sarà seguita da quella in 12 paesi del circondario. L'opera che affronta temi di grande attualità, quali la difficoltà delle donne a conciliare maternità e lavoro, ma anche le discriminazioni cui vanno incontro in campo professionale e sociale e il progetto che la sottende, sono stati presentati stamattina a Nuoro nel corso di una conferenza stampa ospitate al municipio. A fare gli onori di casa, l'assessore dei servizi sociali del comune di Nuoro, Valeria Romagna. All'incontro sono intervenute la regista PJ Gambiuli, la responsabile di produzione Monia Cappiello e le amministratrici dei comuni in cui il film Mamma è fuori mercato verrà proiettato. Innanzitutto io sono molto onorata di essere a Nuoro come nuorese per la premiere del film Sarda, Mamma è fuori mercato, un cortometraggio di 15 minuti che sviluppa il tema della difficoltà delle donne e madri a collocarsi nel mondo del lavoro. È un tema attualissimo che noi stiamo circuitando in tutta Italia, è partito dall'Emilia Romagna, stiamo facendo tantissime tappe itineranti e quindi partirà poi da Nuoro, si evolverà per 12 comuni. E soprattutto un'altra cosa molto importante è che il 13 di maggio alle 20.30 al Teatro Elisio di Nuoro noi sosteniamo Onda Rosa, un'associazione che si occupa di sostenere le altre donne e noi siamo molto onorati di questo. Come nasce questa produzione? Ci sono state difficoltà? Come l'avete parlato avanti? Sì, nasce lo scorso anno e le difficoltà sono state soprattutto quelle economiche naturalmente perché abbiamo fatto un crowdfunding per raccogliere i fondi essendo un'associazione e non abbiamo potuto accedere a dei fondi, dei contributi di altro genere. Per cui la nostra missione è stata proprio quella di annunciare, quindi di proporre questo argomento, questa sceneggiatura e il progetto di questo film, questo film contrometraggio che non è solo un film ma appunto un meeting, nato già con questa conformazione, di parlare dell'argomento. Il crowdfunding è stato un po' all'italiana naturalmente, non abbiamo potuto limitarci all'aspetto prettamente informatico del web, ma veramente con la nostra borsa siamo partite in giro per l'Italia a proporre questo progetto.